Vincenzo Trimboli, 58 anni, originario di Ardore ed esistente capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno, si è tolto la vita stamane usando la pistola di ordinanza. Attualmente Trimboli, che sarebbe dovuto andare in pensione a breve, era in pausa dal servizio poiché da pochi mesi è affetto da una grave patologia. Poche settimane addietro, infatti, era stato ricoverato presso gli ospedali riuniti di Reggio Calabria, dove era in cura. Persona umile dall'alto senso del dovere e ben voluta dai numerosi colleghi che stamattina, sentiti dalla nostra redazione, sono apparsi profondamente scossi e addolorati per l'improvvisa perdita. Trimboli lascia la sua famiglia, ancora scossa e incredula, all'intera comunità. La redazione di Telemia è vicina al dolore degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno e alla famiglia dell'assistente capo.